Melania, vuoi unire la tua vita alla mia nel Signore che ci ha creati e redenti? Sì, con la grazia di Dio lo voglio. Se religi, vuoi unire la tua vita alla mia nel Signore che ci ha creati e redenti? Sì, con la grazia di Dio lo voglio. Sì, con la grazia di Dio lo voglio. Sì, con la grazia di Dio. Sì, con la grazia di Dio. La grazia di Dio. Melania Per Luigi, ricevi questo anello, il segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Per Luigi, ricevi questo anello, il segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sì, con la grazia di Dio. Sì, con la grazia di Dio.